Abbiamo fatto una grande partita e ci meritiamo questa vittoria e siamo veramente contenti. Ora riposiamoci e pensiamo subito a domenica prossima perché in casa abbiamo una partita importantissima che non dobbiamo sbagliare. Siamo stati molto cinici e siamo stati bravi anche sotto porta, forse è una cosa che ci è mancata settimana scorsa. Siamo stati veramente cinici e ci godiamo questa vittoria perché ce la siamo meritata. Lo ringrazio, mi sta dando fiducia, però bisogna continuare così tutti e siamo contenti e andiamo avanti per la nostra strada. Grazie